Dalla discontinuità alla continuità, il passo è breve. È in sintesi quello che è accaduto all'ormai ex candidato sindaco di Fratelli d'Italia, ad Agropoli, Agostino Abate, messo alla porta dall'ex partito che a lui avrebbe preferito lo sfiduciato sindaco Adamo Coppola. Appena tre mesi fa, affirma Abate, una parte della maggioranza si stacca e addebita al sindaco e ad altri la responsabilità dello sfascio completo che la città sta vivendo. Da un quinquennio, pochi giorni fa, un'altra parte della residua maggioranza fa lo stesso. Il sindaco rimasto in carica con un pugno di fedeli si guarda intorno e ritrova il partito Fratelli d'Italia pronto a tenergli una mano e a mettere in naftalina il proprio candidato sindaco. Quando ho dato la mia disponibilità a candidarmi, precisa Abate, tutti i dirigenti presenti hanno preteso netta discontinuità con l'amministrazione Coppola. Poi sabato 9 aprile, nella sede cittadina del partito, è intervenuto l'onorevole Edmondo Cirielli. Al termine sono stato frettolosamente abbandonato da alcuni attivisti locali del partito. Questi hanno accompagnato Cirielli nello studio di un dirigente locale del partito, laddove era presente il sindaco Coppola, che ha concluso con i presenti un accordo elettorale per la sua candidatura a sindaco con la presenza della lista Fratelli d'Italia, che per l'occasione avrebbe adattato il simbolo. Abate sarebbe stato tenuto all'oscuro di tutto fino al martedì successivo. Si sono aperti intanto altri scenari. Il sindaco in carica, ancora uno sfiduciato, inizia una guerra fraticida con le porzioni di maggioranza che lo hanno abbandonato e avvia azioni di epurazione e di offerte per captare la benevolenza degli elettori, offerte di presidenze, di rappresentanze in società e di assessorati esterni. A quel punto Abate, con un comportamento libero e conseguenziale, decide di porre fine alla dannosa guerriglia epurativa sfiduciando il sindaco in carica, consapevole di quale maggiore danno sarebbe stata vittima la città in presenza di una campagna elettorale sbilanciata a favore del sindaco in carica.